... Mister, da domani, ultimo scoglio prima della sosta, che gara si aspetta? È una gara difficile, una gara difficile perché è una buona squadra, incontreremo una squadra che ha il capo cannoniere, quindi dovremmo stare attenti, però ovviamente anche loro incontreranno una squadra che è in salute, quindi dovremmo adeguarci a tante cose, prima il campo che magari potrebbe essere un po' più stretto del solito, però penso che se giochiamo come sappiamo fare, come stiamo facendo ultimamente, sicuramente la partita riusciremo a farla. Tornando alla sosta, è corretto pensare a quelle due settimane in maniera funzionale ai playoff nazionali o è ancora troppo presto? Ma dipende dal risultato di domani, nostro è della terza, però poi dopo la sosta mancano quattro partite, dipenderà domani al novantesimo vedere un po', però per noi cambierà poco perché noi avremo queste due settimane dove ci andremo a mettere bene fisicamente, lavoreremo bene, poi vedremo quello che si dovrà fare. Grazie per la visione!